Cari amici, buongiorno. Dunque oggi sono qua perché, leggendo di tanto in tanto delle email di questo o quell'altro che mi segue, mi sono accorto che ci sono delle lacune fondamentali che sarebbe importante andare a colmare. E allora, l'altra volta per esempio, mi è arrivata una richiesta in cui mi venivano chieste delle dosi per questa polvere che vedete qui, l'MB per 32, e volevano sapere come dovevano caricarla per i 24 e 28 grammi, una cosa del genere. Quindi evidentemente era un amico che voleva utilizzarla per il tiro al piattello, suppongo io. Ora ho qui davanti a voi il recente manuale di caricamento di Tommaso Mann, la balistica ieri e oggi, e vorrei utilizzare questo libro per spiegare un pochettino questa lacuna. Intanto la lacuna sta nella scelta sbagliata della polvere in base alla grammatura che si vuole caricare. Ho preso questo libro, ma non avrei potuto prendere qualsiasi altro, perché qualsiasi libro di caricamento che vogliate prendere presenta le tabelle delle polveri. Ecco, qua sono andato direttamente a quella dell'MB per 32. Prima viene presentata la polvere, ci sono tante caratteristiche interessanti, ma che saperle o non saperle non vi cambia la vita. Mentre invece questa parte qua è, dicei, fondamentale, perché da queste tabelle voi capite con che cosa avete a che fare. Allora io vi invito, prima di comprare una polvere, a riflettere attentamente su quello che dovete fare e che cosa vi serve. Se per esempio volete caricare le cartucce da tiro con 24 e 28 grammi di polvere, di piombo scusate, e mi riferisco chiaramente al calibro 12, allora prendete una di queste tabelle, cercate quella della polvere che vi interessa comprare e controllate che nel range di caricamento che vi presenta le tabelle e ci siano le grammature che voi cercate. Vediamo un po' come si usano le tabelle, perché magari non le avete mai usate e quindi è interessante capirlo. Intanto cosa sono le tabelle? Queste una volta si trovavano dietro le scatole delle polveri. Oggi le troviamo nei libri di caricamento, ma anche più aggiornate sul web. Vengono rilasciate alle case costruttrici e indicano delle cariche, quindi un range di caricamento che può essere più o meno ampio in base alla polvere, che la cassa caricatrice vi consiglio di utilizzare per caricare in sicurezza e soprattutto con buoni risultati. Ecco, qua abbiamo per esempio l'MB per 32. Vediamo la tabella che ha scritto De Mosomanna, cosa ci consigliano. Prendiamo come riferimento il calibro 12, quindi qua c'è il calibro. Tutto quello che c'è fino a qui sono tutti i caricamenti possibili da fare con il calibro 12. Ci dice il tipo di bostro da utilizzare, plastico o cartone che sia, il tipo di borraggio da utilizzare. Per finire, vediamo le dosi in grammi sia di polvere che di pallini. Se voi guardate attentamente in calibro 12, partiamo da 30-31 grammi e ci fermiamo, ecco qua, sui 35 grammi. Queste sono infatti le dosi di polvere, scusate, di piombo minime e massime consigliate dalla casa per caricare questa polvere. Questo vuol dire che voi al di sotto dei 30 e al di sopra dei 35 in tutta tranquillità non potete andare in questo calibro utilizzando questa polvere. perché se andate sotto la polvere non avrà abbastanza intasamento ossia grammature di piombo che gli permettono di bruciare in maniera corretta. Se andate sopra rischiate di raggiungere un livello di pressione troppo elevato mettendo a rischio la stessa integrità della vostra arma. Ora, è chiaro che queste tabelle hanno un range che comprende un limite di sicurezza. Quindi, possibilmente 36 grammi potete anche arrivarci in tonda purché prendiate i dovuti accorgimenti e facciate dei test in canna manometrica per accertarvi di non essere andati oltre. però, se voi non avete modo di fare test in grande manometrica da qui sicuramente potete orientarvi correttamente sulle grammature e sulle dosi di polvere e di piombo e di piombo da utilizzare. Andiamo a esaminare attentamente questa è l'MBX32. Mettiamo di voler fare una cartuccia estremamente leggera con l'MBX32. La prima cosa che notiamo è che lui ci indica in 12-70 lui non non prevede qua l'utilizzo di bossoli più corti del 70 però anche quello non lo potremmo fare e ci darebbe la possibilità di scendere leggermente però dico noi atteniamoci a questi parametri. Notato la prima cosa che notiamo è un innesco molto forte il 688 perché un 688 così forte e non come mette più sotto 616 o 615 perché per poter accendere 30 grammi cioè per poter accendere una cartuccia con 30-31 grammi la presenza che innesco è molto forte e ci facilita la vita in quanto l'intasamento dato di 30-31 grammi è appena sufficiente o addirittura insufficiente per fare accendere questa polvere dato le sue caratteristiche fisiche allora lui ti dice metti un 688 che essendo molto forte aiuta l'accensione e poi usa un 60-65 grammi di MB per 32 per 30-31 grammi e chiudi installare una chiusura che aiuta molto l'accensione perché crea delle pressioni più alte quindi in base a questa riga e con la nostra esperienza noi capiamo che questa polvere con 30-31 grammi è già ai suoi limiti se noi scendessimo probabilmente non otterremo una buona cartuccia perché i tempi di accensione non sarebbero quelli giusti e quindi andremo incontro a fuoco lungo e comunque prestazioni mediocre per non dire inutili poi chiaramente chi ha la canna manometrica e può fare delle prove giocando con piccoli parametri con piccoli accorgimenti può anche arrivare ad avere dei risultati buoni con dosaggi che si discostano dalle tabelle però non avendo nulla in mano a disposizione teniamoci sempre le tabelle e di sicuro non sbagliamo andiamo a salire ecco vedete già qua siamo a 32-33 grammi dal 688 siamo passati al 616 o al CX2000 che sono comunque i neschi forti però con 32-33 sono meno forti che il 688 e con 32-33 grammi quindi maggiore intasamento sicuramente possiamo utilizzare l'assetto ancora salendo ulteriormente a 34-35 grammi l'intasamento è tale da non necessitare più di neschi forti e infatti qui abbiamo suggerito un 615 CX1000 che sono più deboli andatevi a vedere il mio video sui neschi chissà non vi ricordate questo discorso della forza perché è fondamentale e poi per chi volesse utilizzare il felt o la carta lana che ovviamente danno questo sarebbe un caricamento classico un cartoncino felt e carta lana bossone in cartone chiaramente anche qua ci vuole innescare un po' più fortino perché qua sono dei componenti che non hanno la tenuta della plastica e di fatti è salito anche il dosaggio in termini di polvere senza che sia cambiato quello in termini di piombo e abbiamo chiuso in tonda va bene e che dire ancora quindi come potete vedere questi sono i caricamenti non andiamo oltre non c'è motivo di andare oltre ecco questo è un 32 32 33 grammi in tonda utilizzando però componenti in plastica come vedete siamo scesi con con le grammature di polvere dicevo il fatto che andiamo a vedere questi limiti direttamente di grammatura ci fanno capire quello che può fare questa polvere è inutile che prendiamo le mb per 32 quindi se vogliamo fare delle cartucce di 24 28 grammi dobbiamo andare a scegliere una polvere adeguata per esempio f2 per 24 o f2 per 28 queste polveri nascono appositamente per gli 28 grammi o i 24 grammi nel calibro 12 attenzione attenzione perché ho pure trovato qualcuno che leggendo per 28 si è convinto di poter caricare i 28 grammi in qualsiasi calibro ma così non è è guai questi sono polveri estremamente vivaci ecco vedete qua ci sono anche le dosi per gli altri calibri come vedete assolutamente i 28 grammi non si devono toccare se non nel calibro 12 ma addirittura arriva a 27 nel calibro 16 ma insomma sarà una cartuccia piuttosto azzardotella oddio 28 ci stanno dato che quasi sparano con questa polvere anche 30 grammi però ecco vedete 28 grammi sono perfetti se andiamo all'f2 per 24 che è ancora più vivace ecco ci fermiamo dai 24 ai 26 grammi e mezzo quindi se io voglio andare a comprare una polvere e la devo utilizzare per il tipo è piattello e devo caricare i 24 grammi o i 28 grammi mi vado a vedere le tabelle delle polveri e scelgo una polvere che abbia un reggio di caricamento che rientra nelle grammature che a me interessa in questo caso se voglio fare una 24 grammi comprerò un f2 per 24 ad esempio se voglio fare i 28 un f2 per 28 ad esempio non certamente una per 32 che è la mb per 32 che abbiamo visto prima quindi voi prima vi andate a comprare le tabelle o le andate a cercare su internet vi trovate una polvere che abbia un range compreso nelle tabelle della grammatura che vi interessa caricare e solo a quel punto la comprate la caricate attenendovi alle tabelle ma sicuramente avrete delle cartucce valide e non pericolose questo mi permette a fare presente le tabelle le trovate praticamente di tutte le polvere utili qua ci sono quelle della 1 per esempio che una per 32 non sempre ti è scritto che una per 32 ma lo capite perché vedete che i caricamenti vanno dai 30 ai 34 35 grammi esattamente come è stato per la mb per 32 se avete visto questo è il range delle per 32 non lo userete per caricare cartucce da piattello non lo userete per caricare cartucce semi magnum magnum andrà benissimo per l'intervallo intermedio e parlo sempre del calibro 12 ma proporzionalmente anche i calibri inferiori potranno caricare carmature medio basse ecco qui guardate il 28 che carica massimo 18 grammi ecco qua 17 18 grammi e non oltre ora potete volendo salire un pochino di più ma dopo averlo fatto e con la dovuta esperienza andate in un balipedio chiedete di fare un test in monometrica portandovi le cartucce così caricate e controllate che il range di press che la pressione e i valori ottenuti siano nella norma guai a caricare di testa propria al di fuori di queste tabelle c'è sempre il rischio di farsi male con le polveri e purtroppo basta sbagliare una volta nella vita per prendersene per tutto il resto della vita quindi attenzione ragazzi ci tengo molto a questo bene quello che vi volevo dire per oggi l'ho detto spero che non mi arrivino più richieste di caricamenti di grammature completamente sballati per il tipo di polvere che avete scelto un grande saluto attenzione e a risentirci alla prossima ciao ciao